ciao se hai già provato a sederti per meditare o se mediti da tempo hai di certo compreso quanto sia importante assumere una posizione stabile e comoda oggi ti voglio mostrare il miglior cuscino per la tua meditazione il suo ideatore lo ha curato migliorandolo per cinque anni prima di inviarmelo per chiedermi un parere ho subito percepito la sua funzionalità è morbido ma allo stesso tempo dona grande sostegno alla base della colonna vertebrale la sua inclinazione permette alla curva lombare di sistemarsi spontaneamente inoltre le punte di questa mezzaluna accompagnano l'appoggio delle cosce alleggerendo le ginocchia e aiutando il posizionamento delle caviglie e dei piedi dopo averlo usato per vari mesi me ne sono innamorato e come me tutte le persone alle quali l'ho fatto provare un supporto straordinario per raggiungere una postura stabile e felice namaste